Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Siamo ormai alla Domenica delle Palme. Nella tradizione sempre questo momento delle Palme assume un ruolo importante come ingresso di Gesù a Gerusalemme. È un vincitore o un perdente quando Gesù entra a Gerusalemme. Le attese erano diverse perché c'è chi aspettava questo momento come se fosse il momento della rivolta contro il potere, contro i Romani, contro la restaurazione del regno dell'Israele, del regno del popolo ebreo, la libertà. Però attraverso una scelta politica ma anche militare se vogliamo, verso la rivolta. E invece Gesù si presenta come altro, cioè sceglie un asino e non fa la rivoluzione. Questo è quello che in qualche modo gli allontana diversi che pensavano di servirsi di lui per cambiare certe cose. Gesù entra invece portatore di un nuovo cambiamento, cioè un cambiamento molto più radicale perché possono cambiare le forme esterne anche del potere, ma se non cambia radicalmente il potere, cioè il modo di gestire il potere, non cambia niente. O cambiano delle forme, certo, si possono acquisire fatti nuovi, però strutturalmente non cambia niente. E che cosa vuole cambiare Gesù? Gesù cambia qualcosa di profondo, cioè dove il potere diventa servizio. E servizio significa che tu dai te stesso, doni la propria vita. E questo è quello che il Signore chiede. Quindi non soltanto una rivoluzione esteriore, delle strutture esteriori, istituzionali, che sono importantissime, certamente, però non sono risolutive. Se gli uomini che poi devono gestire queste strutture istituzionali non sono convertiti dentro, cioè se dentro non vedono questa responsabilità di gestire il potere, se non lo vedono come un servizio alla comunità. E qui sta il gioco importante, insomma, dove si misura il valore di un cambiamento. Perché è lo stile del servizio che rende la preoccupazione per il bene dell'altro, per il bene di tutti, per il bene soprattutto di chi è ai margini, che diventa qualcosa di importante il cambiamento. E ora Gesù entra a Gerusalemme, mantelli, palme, ma il suo trionfo è il trionfo di chi si è affidato e che il potere schiaccia, e che il potere lo schiaccia perché Gesù è stato ammazzato secondo la legge. avevano tutte le regole, servivano tutte le regole. Pilato a modo suo condanna Gesù perché segue delle regole. Gli ebrei dicono che ha bestemmiato e quindi secondo la legge doveva essere ucciso. Ognuno ha le sue motivazioni per eliminare Gesù. E' scomodo perché lui va oltre tutte queste logiche. E' la logica dello spirito di Dio, ecco, del cambiamento dell'uomo nuovo che invece è importante. E' tutto la settimana santa che noi celebreremo a partire proprio da questa domenica delle palme. E' proprio il cammino dell'uomo giusto che viene ammazzato, ucciso. E però non è la sconfitta. Questo è il senso profondo. Cioè, che questo cammino dell'uomo giusto non è la sconfitta. Ecco. A volte ci sembra che sia totalmente sconfitto perché sembra che i giusti soccombano sempre i prepotenti di questo mondo. E ci soffriamo di questa ingiustizia del mondo. Noi soffriamo e viviamo. Per chi vuole realmente un mondo diverso. Scusate. Ci soffriamo. Però è questo modo nuovo, questa prospettiva nuova che viene data all'umanità. Cioè, è possibile trovare altre strade. E Gesù apre questa strada che è la strada di Dio. Dio si manifesta e si rivela come il Dio che si dona. Non come il Dio del potere. Di chi domina, che domina e che ha bisogno di sacrifici per... Non si sa bene per che cosa, insomma, per placare che cosa. Un ordine. Un ordine costruito da chi e perché. Se c'è un ordine, è l'ordine di scovare dentro l'uomo il suo vero volto. Cioè, il volto dell'amore. Dove l'uomo si riscopre come colui che dona a se stesso. Cioè, nell'atto di donare, di relazionarsi all'altro per dare a se stesso. E questo avviene nella vita matrimoniale, nel dono. Dovrebbe avvenire nella vita sociale. Deve avvenire un po' in tutta la nostra situazione umana. Cioè, deve essere la regola generale, il modo. Perché questo rivela a noi chi siamo noi stessi. Che noi non siamo chiamati per dominare sugli altri. Ognuno si afferma, afferma se stesso per dominare sull'altro. Ma per donare. Gesù sulla croce vive questa esperienza. Il giovedì santo, lui dà un segno di questo, donandoci il pane e il vino, come segno di questa grande comunione di amore. Sediamoci tutti a tavola. Sediamoci tutti a tavola. E facciamo la pace. E viviamo questo amore. Questa dimensione del dono. Proprio leggevo, proprio stamattina, leggevo che il Papa si mette in ginocchio davanti ai capi del Sud Sudan. e bacia i piedi, imbocando fratelli, ecco, di fare la pace, di evitare di scontrarsi per questione di prestigio, di dominio. E chi paga poi è la povera gente, migliaia e migliaia, milioni di persone che sono profughi. Non è possibile, insomma, la sofferenza di milioni di persone solo perché alcuni lottano per il potere, per dominare. E allora il Papa si mette in ginocchio. E questo è il gesto grande di Papa Francesco, insomma. Si mettersi in ginocchio, baciare i piedi, invocando a questi uomini di cambiare rotta e di non lottarsi, di non eliminare la guerra fratricida, insomma. Una guerra civile, insomma, che semina morti e sofferenze in tutte le popolazioni di quella zona. Ma è lo stesso a livello mondiale. Quanta sofferenza per questioni di potere, di dominio, insomma. Quanti muri sono stati alzati che creano sofferenza, insomma. Muri di esclusione, di barriere, che sono i muri della paura, insomma. Ecco, Gesù ci lascia questo pane e questo vino come tavola attorno a cui mangiare che cosa? Mangiare il corpo e il sangue di Cristo, cioè attraverso questo segno del pane e del vino. Noi mangiamo, beviamo. Ecco, proprio la umanità di Cristo, la realtà di Gesù Cristo. Perché tutto questo ci unisca e ci metta insieme. Questa è l'Eucaristia. E se noi la domenica andiamo a messa, è questo che vogliamo celebrare. Non tanto adempiere un precetto, andare a messa, basta. Ma un lasciarci annegare nell'amore del Signore. Questo è il senso profondo del mangiare insieme e del mangiare il corpo del Signore. Perché siamo tutti un solo corpo, siamo tutti una sola carne. E questo è il giovedì santo. E questo poi diventa il venerdì santo, questo morire, questo donare la propria vita. Lui la dà la propria vita, ecco, ecco, si affida al Padre e dà la propria vita per amore. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Cioè l'amore attira. Con le braccia spalancate, Gesù, ecco, in questo essere sulla croce, con le braccia distese, attira. E abbraccia tutta l'umanità. È un invito di amore, non è un prepotente, non è un atto di forza. È voler suscitare il più profondo, quello che c'è nel più profondo dell'animo umano. Cioè il desiderio di essere abbracciati, di abbracciare, cioè di vivere questa comunione. Più che non affermare se stessi. Noi ci affermiamo nel momento in cui amiamo. Noi diventiamo noi stessi nel momento in cui amiamo, in cui ci, ecco, riconosciamo l'altro come fratello, come sorella. Questo è il senso profondo del venerdì santo, che è un venerdì. Noi abbiamo raccoperto, facciamo un senso di lutto. Ma è il giorno già della rivelazione di Dio. Cioè il Dio, il Dio di Gesù si rivela, si manifesta nella morte. Sembra strano, perché noi siamo abituati al Dio potente, al Dio che si deve manifestare. Lampi, tuoni, eccetera. Il Dio che è potente, ma a volte sembrerebbe quasi prepotente. Invece no. Questo Dio si manifesta in questo morire, in questo donarsi. Dove il morire è proprio abbandonarsi, il donarsi, insomma, cioè il donarsi per amore. Padre non sanno neanche quello che stanno facendo. Non si rendono neanche conto, dice Gesù, di quello che stanno facendo. Cioè stanno perdendo se stessi. Perdendo se stessi. Chi fa il male perde se stessi. La cattiveria, l'odio, è una perdita di se stessi. Coviamo a volte noi odi, rancori, anche tra i parenti, anche tra fratelli, sorelle, parenti, amici, eccetera. Coviamo, coviamo dentro tutto. Non ci accorgiamo che stiamo rovinando noi stessi. Pensiamo di rovinare gli altri in questo modo, in realtà stiamo rovinando noi stessi. stiamo perdendo la nostra umanità. E se perdiamo la nostra umanità, che cosa ci resta? Nulla. La solitudine, l'inferno. Questo è l'inferno, è la solitudine assoluta. E quando non c'è nessun briciolo di amore, questo è l'inferno, insomma. E allora la Pasqua di risurrezione è questo segno. Cioè, perché questo momento in cui sembra che tutto è perso e che la vita è totalmente donata, ecco, allora noi sappiamo che quella è la risurrezione, perché è il Signore che ci salva. Non siamo noi che salviamo noi stessi, non c'è un'autosalvazione. In questo affidare totalmente la nostra esistenza per amore, noi siamo salvati dall'amore grande, che è l'amore di Dio. E questa è la Pasqua del Signore. È lui che ci rimette in piedi e che ci fa vincere anche la morte, che sembra la più grande sconfitta della nostra vita. Ma è proprio questo il senso. Chiediamo al Signore, io chiedo al Signore che queste cose le possiamo capire profondamente. Che questa nostra fede, ecco, sia realmente più profonda, radicata dentro di noi e che si esprima nella vita quotidiana, nelle piccole cose. Perché questo donarsi, questo amore, ecco, lo possiamo vivere ogni giorno, nelle relazioni tra fratelli, sorelle, famiglia, amici, ma anche nei confronti di chi sappiamo che non ci vuole bene. Ma anche loro hanno bisogno di un gesto di attenzione. Ecco, questa è la Pasqua del Signore. E vi auguro una bellissima domenica. Sia lodato di Gesù Cristo, pace e bene.